Dopo aver ricevuto anche qui gli auguri cantati per il suo ottantesimo compleanno dopo aver ascoltato storie e testimonianze di membri della comunità di Nomadelfia fondata nella 1931 da Don Zeno Saltini e oggi a Grosseto con l'obiettivo di diffondere la fraternità e realizzare una civiltà nuova radicata sul Vangelo Papa Francesco è tornato sul tema e il senso del Natale. Il figlio di Dio ha detto si rivela al mondo non come colui che sta in alto e domina ma come colui che si abbassa e discende assumendo l'aspetto fragile di un bambino. In questo modo ha proseguito Dio ci insegna che non dobbiamo metterci al di sopra degli altri ma siamo chiamati ad abbassarci, a servire per amore i più deboli, a farci piccoli coi piccoli. Quindi il Pontefice ha insistito sulla figura di Don Zeno che bene aveva intuito questa missione facendosi discepolo fedele di Cristo e testimone di una carità inesausta e chiesto ai presenti di imitarne il coraggio e l'amore per la Chiesa. Infine Francesco ha messo l'accento sul patrimonio spirituale di Nomadelfia. Vi incoraggio a dare alla società questo esempio di sollicitudine e di tenerezza tanto importante. I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli. I bambini perché porteranno avanti la storia. Gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro vita. Non stancatevi di coltivare e alimentare questo dialogo tra le generazioni facendo della fede la vostra stella polare e della parola di Dio la lezione principale da assimilare e vivere nella concretezza della vita quotidiana. Sarete così capaci di imitare sempre più la prossimità di Dio agli uomini e contemplare nel volto delle persone più fragili l'immagine di Gesù bambino.